Grande novità sul mercato italiano, Pronto Doccia, l'azienda che con grande professionalità e a prezzi imbattibili trasforma la vostra vecchia vasca da bagno in un pratico e moderno box doccia. Chiamate subito l'800 099 042 e un consulente di Pronto Doccia vi consiglierà la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Soltanto 8 ore di lavoro e avrete un bagno da sogno. Con Pronto Doccia non occorrono muratori, imbianchini o piastrellisti e potrete usufruire del rimborso del 50% sulla ristrutturazione edilizia. Chiamate subito Pronto Doccia e dalla mattina alla sera con un lavoro fatto ad opera d'arte il vostro bagno sarà dotato di una splendida doccia completa del suo box. Guardate come si presentava questo bagno alle 9 del mattino. Per prima cosa i tecnici hanno rimosso la vecchia vasca per creare lo spazio dove collocare il nuovo piatto doccia in materiale ecologico e garantito per ben 15 anni. Prima di installare il box doccia viene posizionato un pannello in allufas, un materiale composto di ben tre strati, alluminio politilene e alluminio per la massima coibentazione. Garantito a vita contro l'ingiandimento indistruttibile antigraffio e facile da pulire. Il lavoro viene ultimato andando a posizionare tutti gli accessori come il soffione con doccetta e vi ricordo che questo splendido box doccia lo potete avere di qualsiasi materiale e con qualsiasi tipo di finitura e di cristallo che può essere sia trasparente che opaco. Soltanto 8 ore di lavoro e avrete un nuovo bagno da sogno. Con pronto doccia non occorrono muratori, imbianchini o piastrellisti e potrete usufruire del rimborso del 50% sulla ristrutturazione edilizia. Ma pronto doccia è ancora di più e oggi vi presenta Solution, il piatto doccia con il suo box studiato per gli anziani e per le persone diversamente abili. Il piatto doccia installato a filo pavimento permette l'ingresso con facilità con carrozzina e le molteplici aperture del box consentiranno di fare la doccia in completa autonomia. Il box doccia è corredato degli accessori che vi aiuteranno a muovervi con sicurezza come il maniglione o questa comoda ed elegante seduta. Il box doccia Solution, bello anche nel design, può essere ovviamente utilizzato come un box doccia normale da tutta la famiglia. Infatti anche il box doccia Solution è corredato di tutti quegli accessori come il soffione o la doccetta che solitamente si trovano nei box doccia più esclusivi. Chiamate subito il numero che vedete in sovrimpressione e in solo 8 ore il vostro bagno sarà dotato di una doccia nuova fiammante con il suo box. Tutto realizzato con materiale ecologico. Chiamate subito pronto doccia e il benessere non sarà più un sogno. Grazie. Grazie.